ciao ragazzi da marsale e benvenuti su airstone questa volta niente lissa faccio una partita faccio il gioco un mazzo un mazzo reato apposta perché l'ha richiesto un utente si chiama porta madonna la che non è una bestemmia ma tra l'altro questo mazzo è pronto a distruggere probabilmente la mia la mia ladder potrei giocarle in amichevole ma non mostrerei un briciolo di palle in effetti perché dimostrarle visto che mi rovinerei la streak facciamo una prova di giocarlo no no ma giochiamo in classificata assolutamente io non ce la faccio per me proprio non ce l'ho sulle corde il giocare fuori dalla fuori dalla ladder quindi comunque è un mazzo sostanzialmente in cui è un resurrection priest in cui ci abbiamo infilato la donnola abbiamo infilato la donnola e vediamo proviamo vediamo che succede mentre è stato una ultrapessima idea provare a ad inserirlo nella cioè insomma va a farci la giu per me attenzione 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 giocarlo di mano mi dà quasi gusto che Luca ti benedica che Luca ti benedica che Luca ti benedica non è male eh perfetto questo c'è una donna non è il mazzo il mazzo fa cagare a spruzzo hai ragione hai ragione attenzione destabilizzo il tizio con questo vado a destabilizzare il tizio assolutamente destabilizzato sicuramente tanto è vero che è morto non fa più niente ho fatto questo mazzo perché comunque sia mi è stato chiesto da allora vediamo un po' attenzione perché ah c'è cosa che voglio venire di darlo fuori eh adesso questo si incazza si cominciò tra tutte donne le mazzo io sto a ridere cioè te lo dico io sto proprio a ridere te lo dico perché c'è allora vediamo un po' come poter fare questa è una persona di maledizione mica no questa fiamme ci piace parecchio ci piace parecchio questa fiamme adesso molto 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 eh sì attenzione seconda donna nel mazzo quindi in questo momento non può usare leno jackson e questo c'è proprio che piacere è spettacolare sta cosa eh sì attenzione perché beh 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 attenzione grande grandissimo e un cazzo niente l'ho fatto solo per uccidere così l'ho fatto solo per sparare al 2-1 che punco può andare bene insomma torno a me mi serve più il male però 9 carti in mano attenzione attenzione grande mazzo rottura dei coglioni tanto l'amico ricordiamo che nel mazzo c'ha due donne le conseguenze a leno jackson al momento eh va a sparare proprio sul gli dà fastidio come dire pesca pesca c'hai 8 carte in mano ma 9 no eh vabbè che fai non ce vai uuuu attenzione mamma mia ce l'ho voglia di giocarla questa giocamola dire che mi ha detto merda è poco vabbè insomma ci sta dai le carte un po' randomiche mind games 10 carte in mano vediamo cosa fa 10 carte in mano taurissian dai giocherà sicuramente taurissian taurissian è che molto indecisive eh molto indecisive beh è molto confuso adesso SWAT57 è un po' confuso adesso hai capito? adesso volevi sapere che c'è fai c'è la donna la si scassi il cazzo e reno tech mi piace questo utilizzo questo è andato completamente in crisi con quelle donne adesso che mi faccio? non posso non posso utilizzare reno jackson perché c'ha due donne le immagino se non le pesco reno jackson è completamente inutile potrebbe essere anche crashato attenzione non è invece ancora vivo vediamo io non ho parlato uh talpa di fogna e beh cioè allora come dire per carità eh lo potevo prendere quindi si insomma pure sti cazzi cioè se vuoi no allora prima abbiamo c'è una carta in mano sua ah però poi ci prendiamo una pozioncina casuale e poi di sfondo no attenzione che non può usar reno jackson sta cosa è bellissima bellissima e se lo scorcia che fa due danni mi ammazza questi quindi no mi ammazza due da tre dico sta al nove non può usare reno jackson attenzione aggrissimo questo prete imparo il terzo geniale di fila eh sì eh sì pozione completamente inutile al momento questa per me però è andato completamente nel pallone sto vizio te lo dico io eh sì però che fai ah ok ok questo costa 7 beh 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 innanzitutto dammelo ragazzi dammelo così tra poco d'uccino tanto per cominciare dammelo che tra poco d'uccino eh sì grazie perché tra un po' arrivano i tre danni che gli mancano eh qui ragazzi qui gli brucia il culo l'amico eh qui te lo dico io gli brucia il culetto eh senza reno jackson stiamo per andare male eh eh sì ahia questo è brutto purtroppo questo è bruttino adesso sì 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 però però vediamo trade vediamo che mi dà uh 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 attenzione attenzione perché qui c'è un'altra copia signori, un'altra copia signori un'altra copia di questo potrei anche ma sì aspetta prima dammelo un'altra copia poi rompilo c'ha due due protettori abissali beh niente male certo stavo messo meglio, molto meglio prima però adesso c'è anche la combo silvanas ombro fuoco sul prete che non è una combo che ti aspetti sicuramente insomma no ma soprattutto la cosa bella che non può giocare l'ero questa è la cosa bella 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 eccolo da Ulisse tra l'altro adesso eh sì adesso questo è bello questo non posso giocare ahiaiai eh beh ma tanto che poi fai io per forza questo lo fa per forza questo purtroppo lo posso giocare a meno che no a meno che un cazzo ci la faccio a meno che un cazzo vabbè tanto è andata a 11 eh lo so era troppo bello quello per quello era troppo bello però insomma è vero che c'ha le carte col costo di tutto ma insomma secondo me l'ho messo parecchio in difficoltà ma se non era per questo con Bran Febran è morto a me quindi significa che restare attenzione perché c'ha 10 mana e questo ok però 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 prossimo turno c'è combo prossimo turno c'è combo e mi prendo qualcosa di grosso attenzione questo è brutto ok attenzione 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 perché però a sto punto esce il secondo eh sì in realtà posso anche giocami questa ma gioco questa ma gioco lui uuuuh vabbè attenzione perché questo è bene questo è bene questo è bene ci sta pensando ci sta pensando io ho giocato molto lisce giocate liscissime signori eh hai chiesto che ti fa sta donno tu mi hai chiesto qual è l'utilità della della donno ecco ecco la donno che ti fa impedisce l'anno jackson anche se ormai c'è la donna le sue mani insomma se c'è la sua le mani non stanno nel mazzo quindi eh infatti oh scusa però le danno nell'ognome s2 strana sta cosa perché ha funzionato non dovrebbe onestamente non credo che dovrebbe funzionare va bene eh oh va bene onestamente non pensavo funzionasse ah no certo che funziona c'hai le donno in mano ok giusto giusto c'hai le donno in mano beh adesso siamo ancora 14 carte c'hai due donno in mano vi sappiamo che di queste carte che c'hai sulle mani 9 carte tra due donno cioè almeno una donno la scusate la donno è in mano la donna non sta nel mazzo o comunque la donna non sta nel mazzo non lo so però insomma ce l'ha quindi reno jackson l'ha potuto usare però non l'ha usato fino a un botto con 14 carte dalla fine e certo ce l'ha in mano e qui ci vorrebbe qualcosa con il rantolozzo capito perché capito col volaz col volaz io comincio a mettere sti cazzo di dannere in mano cioè in ma questa me la devi spiegare cioè addirittura tutta sta cosa la donnola no la donnola no la donnola vabbè aspetta e mo te faccio rienta matto ma non ce la faccio che cazzo però che cazzo era figo era parecchio figo come cosa perché oddio adesso che me ne frega in effetti adesso quasi quasi gli fa un favore in realtà se gli mette dannere dentro il mazzo o no vediamo così giochiamo così cosa sta a fare mamma mamma dammelo via no adesso ce lo pigliamo questo è in dubbio che ce lo pigliamo adesso questo è in dubbio che ce lo pigliamo anzi farò di più faccio di più eh sì questa faccio di più proprio eh sì grazie c'è anche un lero jurikens non so se se l'aspettava adesso mi sono rimasti i 4 danni fatti era il fire oh ehi kazakus kazakus vabbè con kazakus probabilmente i danni per fire a questo ce l'avrà però certo ha preso una bisognerà vedere che cosa sì eh che partitina signori sicuro non mi aspettavo una partitina così attenzione distrugge kazakus vabbè vediamo le carte che ha eh questo sai gazz vabbè questo lo giochiamo dopo figuriamo e anche 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 la fine sta arrivando adesso sono 12 anni innanzitutto e parliamone perché se per caso uso già l'axus a un certo punto perché le carte mie sembrano di più vabbè attenzione sta meditando lo levo non lo levo lo levo eh mi fai danni e non lo leva signori non lo leva non lo leva passa e non lo leva e la donna non lo leva non lo leva ok intanto sta a 16 quindi il gioco un altro di roi jerkins arriva una settimana questo ciò ricordo vabbè adesso fa sto doppio raid tranquillo su in realtà ho fatto una stronzata da giocare adesso però vabbè poteva semplicemente aspettare mmm allora praticamente adesso se io faccio lui e poi lui guadagno punti lui glielo spragno in faccia eh no lo ammazzo così no allora se gioco lui lo prendo e lo porta a 5 e cazzare fatto io ammazzo quelli le jerkins e quindi no non è una gran giocata invece lui no invece comunque è una buona giocata no no è una buona giocata la voglia se va è l'unica giocata che c'era in realtà l'unica che c'era assolutamente l'unica che c'era dieci carte dieci carte l'unica giocata che c'era dieci carte però alcune tonnole eccolo no è mattacca vabbè ok eh ora attenzione perché qui è interesse ha giocato la distorsione fa la voglia holy shit holy shit sto basso ma mo metto benedetta sia questa e inferno non attacca già quello non ho tempo per giocarlo e ora che hai fatto praticamente no ce l'ha c'è l'ombrofuoco uh sugli scudi sugli scudi ne sa aspetta eh certo what the f allora calma come cazzo ne esco come cazzo ne esco allora se io faccio vabbè vediamo che cartone innanzitutto un'altra tonno vediamo chi si prende tonno 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 sì perfetto 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 poi guarda le tonnole che semiglia guarda le tonnole è pieno è pieno di tonnole è stra pieno di tonnole e sta a 6 e non c'era no Jackson non è che che stia verso particolarmente bene però insomma aia è abbastanza persa a meno che a meno che a meno che è finita l'ho persa l'ho persa peccato 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 sicuramente l'ho fatto qualche misplay vabbè però mi sono divertito è stata una partita divertente su questo ringraziamo l'utente anche perché con mazzo donno non c'ergerò mai più grazie se vi è piaciuto questo video mettete un like e ci vediamo alla prossima al prossimo video di Airston con Marzala ciao